A parte la vicenda in sé che non conosco, quindi aspetterei di capire di che cosa si tratta prima di emettere sentenza, però fa impressione che questi qua che sono quelli, ricordiamo dell'onestà, onestà gridata in continuazione, sono quelli che poi le fanno peggio degli altri e fa ancora più specie Gomez che, insomma mi rendo conto, forse un po' per imbarazzo richiama gli altri partiti, a conferma, qualora ce ne fosse bisogno, che sono diventati non solo come gli altri, ma un po' peggio degli altri e questo mi sembra il fatto che abbiamo sotto gli occhi tutti quanti. No, Picerno, Picerno è che per dovere di cronaca io ho visto il servizio delle Iene, allora si tratta che lì c'è un avvocato che secondo me dice una cosa che non sta in piedi, dice l'abbiamo fatto apposta, perché secondo noi la legge funziona in questa maniera, se l'hanno fatto apposta, se l'hanno fatto apposta secondo me è demenziale, punto e basta. Non so se è delinquenziale o demenziale, poi capiremo meglio di che cosa si tratta, ma invece usare un morto e autenticare la firma è criminale, è una cosa diversa. Ci stiamo riferendo a un'altra vicenda che adesso arriviamo peraltro. La cosa interessante è il richiamo, ripeto, a tutti gli altri. Ci sono due le firme, quelle che vengono autenticate perché sottoscriverebbero quello che è l'atto principale, quando tu corri per le amministrative in un comune ci sono tutti gli atti dove raccogli le firme e poi c'è quello principale che racchiude tutti i moduli e tutto. E quello è datato prima della raccolta, è per questo che durante i servizi dicono sono preveggenti, sicuramente non è una cosa regolata, l'atto è un atto illegittimo come è stato fatto, poi non lo so se le firme, se è datato prima significa che le firme, io non l'ho visto il servizio però, che sto capendo da me, significa che le firme sono state raccolte a prescindere dall'atto di 24, le firme vengono raccolte il 23 di aprile, queste sono le, non è demenziale, l'atto principale però cadono tutte le firme, questa è l'unica cosa giuridica, è che se cade l'atto principale dove ci sono due o tre firme, di solito tutti i partiti tengono proprio le persone di cui si fidano di più per fermare quello, cade tutto. Dato che Peter ha dichiarato la sua incompetenza sulle leggi amministrative, io dichiaro la mia, cosa vuol dire questo? Che se verrebbe... Però io la penso come lei. No, no, se venisse fuori che questa cosa è stata andata come voi gli state dicendo, esattamente così, potrebbe decadere... Se quel l'atto non cadono tutte le altre firme, se quel l'atto è nullo. Poi magari un giudice la prende come... E quindi diventa illegittima la candidatura della Raggi a quel punto. Dopo, io i passaggi dopo non so quali siano, però se cade quello, se quell'atto viene ritenuto illegittimo, anche tutti gli altri sono illegittimi e poi penso però che un giudice probabilmente davanti a questo la prenda come un grosso errore. Allora, Pina Ficero è stata molto prudente in attesa di capire i fatti, però invece i suoi compagni di partito, c'è già un'agenzia di Ermini che dice, 25 Stelle, dica la verità sulle firme per la Raggi, qual è il metodo che usa? Insomma, avremo bisogno di risposte chiare. E poi Ernesto Carbone scrive, ma le firme per la candidatura di Virginia Raggi sono valide? Il dettagliato servizio delle Iene pone domande a quei 5 Stelle Raggi non possono... Inizio, quindi insomma mi riservo di guardarlo. Allora, vediamo un po' ai problemi in casa.